Domenica di Pasqua 5 aprile tutte le strutture museali e le gallerie d'arte del comune di Pordenone saranno chiuse e così sarà anche per Pasquetta lunedì 6 aprile ad eccezione della galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato che sarà aperta nel pomeriggio dalle ore 15 e 30 alle ore 19 e 30. Una visita alla galleria situata nel Parco Galvani che accoglie anche il Roseto del Mira, magari da raggiungere in bicicletta, permetterà dunque sia di stare all'aperto in mezzo alla natura sia di apprezzare le mostre in corso che sono ben tre e abbracciano pittura, sculture e fumetto, il tutto a chilometri zero a pochi passi dal centro cittadino. Rimangono allestite infatti fino al 19 aprile le mostre Virgilio Guidi, il destino della figura, Luigi Vettori, un'eredità spezzata e il mantello di carta. Virgilio Guidi, il destino della figura, presenta una significativa selezione di quadre e sculture di quello che fu non solo uno dei protagonisti dell'arte del Novecento ma anche maestro di un'intera generazione di pittori friulani. Luigi Vettori, un'eredità spezzata, ricostruisce attraverso 60 dipinti, 35 tra disegni e incisioni, numerose foto e documenti originali, la vicenda del giovane artista, promessa dell'arte italiana. Infine il mantello di carta, che raccoglie a sostegno dell'assistenza domiciliare e pediatrica i disegni di 46 fumettisti di grido, tra cui alcuni dei maestri del fumetto contemporaneo che hanno aderito al progetto accompagnati da celeberrimi personaggi dei fumetti come Paperinic, Lupo Alberto, Ratman, Nathan Never e Dylan Dog. Aspettito. Aspettito. Grazie a tutti